E' la cosa che mi è mancata di più. Ah, più di noi? Più di te sicuramente. No, no, ma... Dai, dai, dici la verità. Allora, te sei riuscita a fare i danè? Dai, dimmi che possiamo riscattare le caffetterie e aprirci un bel ristorantino a Foro Bonaparte. Non esagerare, allora... Dai, ma lasciatelo in p...